bella vecchia, grazie, siamo tornati con noi per l'episodio di show one e anche lui ha l'ospite si, abbiamo visto che ha messo anche lui il triangolo quindi sarà un 2 vs tutorial veloce veloce dovete premere il triangolo che gioca in due difficile, mamma mia incredibile sarà quindi un 2 vs 2 si un 2 vs 2 è più carino e lei è la prima parte della quarta divisione esatto questo è importante da ricordare bello 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 eh fallo oh eh devo passare tranquillo brava fallo ha visto che non c'è stato nessuno non so in mezzo di voi cos'è che cos'è perchè ti piacciono questi passaggi inutili io non conosco ma ancora più bello no 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 vai fai 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 un postino cosa è da posso fare via c'è ragione su di si se non vi non è un po' poco un po' ho il figlio che salvaggio i p di maria mamma mia tu azziero sei già quello quello che c'è sempre lui magnificamente lui ma che cazzo magnificamente lui ogni tanto guarda se le dozioni mi stacco dietro mamma non so che 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 non so per la pensione se vuoi con i figli al baluccio dice volerà ma c'è un uomo non è possibile che può dare un uomo così popolo no da se sei no modi se vuoi non mai se fai come se vedevo a destra e ma se per i punti non è vero di farlo se per i punti se mamma mia foto mi raccomando simulosi o pesci a un giro quasi per di palla volentare giuro per favore qualcosa ma che vuoi posso io dovrò passare i porti qua invece di cui la famiglia oma e non porta la cazzo purtroppo comporta devo segnare nuova l'azienda che lo stava a fare poi facessi shot in un'altra zona c'è un po' il pubblico segnalo 1 almeno lo voglio fa che cazzo tu mori tu mori ho tirato normale ma che hai tirato normale ha spinto 40 tasti su ho tirato normale però ha tirato normale lui ancora mamma mia metti un'ansia a questo gol dai cioè ti giuro c'è sta di un culo assurdo ma non hai capito ti hai fatto guarda che hai fatto quaquero ti rendi conto ma quaquero l'ha tirato male lui ma ancora si perché se poco poco faceva il fancy shot vabbè ne potevi dire se uno stronzo non do i far fancy shot ho capito non ha fatto ancora peggio eh no ancora peggio il cazzo e poi mi piace sta cosa che hai premuto tre volte e sta ad alta comunque comunque ti ha fatto un gran cross ce lo so però è lui è nano allora adesso vedete solo sentire soltanto l'audio perché è bovito lo spazio sua memory si io ho fatto una cazzata qua incredibile ma non sta a problema guarda te Tureo sta allunghine in merda no no non sai che chi era che pulchia oddio erano partiti indossa vai che è tuo press vai che è tua se la ti metti pure in mezzo madonna mia ma serio ma perché tira boom che tira che merda lo so ma pure fuori eh si io mi chiedo perché dopo che fa questo coso qua va automaticamente sull'esterno un'altra volta ma parola per lui non era per noi finisce qui è finita la partita e niente andiamo subito con la seconda si che tornerà la fesca ovviamente sulla seconda partita ciao belli eccoci qua con la seconda partita incredibile fantastico e ci siamo cambiati io ho avuto freddo si e io ho avuto caldo indicazione in servizio david silva cc 89 if c'è una bella un'altra c'è una striscia positiva t5 per contare ma la sua si è bella 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 vattene sopra perchè mi fischi perchè si perchè fai schifo buo bellollo come stavo a dire vaffanculo dai devo caricare di più cambiata intanto la cosa del risultato non so perchè ma la mia che falla di merda va bene ma che fa bene boom baby che cazzo come sta merda ma schifoso vai quadra vai quadra vai quadra vai subito una scelta come qua questa pezza pitticabbe c'è la mamma mia guarda fa scuola fa scuola incredibile papam compagnia vada 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 perché cazzo di maria ma non so cosa per me si diceva rilassi a parte cazzo di destra per chi non sarebbe scusate sul testo apposta per capo posto quello oddio che fallezza tira subito o dei e che era un concorreio testo mamma mia no io io me ne vado mamma io che culo che cazzo che ti ho fatto guarda guarda no non ci posso credere il primo tiro che fa segna non ci posso credere io lo sapevo che non la segna quale che culo che c'ha avuto mannaccio come poi mi fa ancora più male mamma mia ancora più male si che devi segnare con sta maglietta il bello è che c'è lo stiamo dalla Roma lui oddio stai da solo mamma mia guarda ti ho aspettato apposta non voglio dire anche testa con Aguero 2 a 1 mamma mia Aguero è da Cina adesso eh vuoi ancora mettere il pente che è? non sai che fa non sai quanto ho fatto in ultima perché lo stiamo da bene mi ha stava vabbè dai tu co così ma hai scherzato? ma sei tu co così 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 da solitaria c'è che ci sono nato ho fatto tutto il tempo così e c'è sei tu co sei tu co su co le testo co su co le testo co su co aspetta a volte bello oh fazagno ma oggi mi sento proprio cazzato ma pazzano mamma mia oggi mi sento proprio cazzolino ma guarda come c'è non me lo giaccio rientra mamma mia ma a me mi piace di me a me mi piace mi scatti cioè quando falluta il pallone mi scatta ma no vabbè mamma ma cioè se segnava sto call io ti giuro che nella ... è un colpo scandalo tutti così che sta a fare, ma questa partita finirà in pareggio? cioè è sicuro tagliato eh tagliato e fallo tagliato e fallo no 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 fatta a prendila ma no no fatta a prendila ma fatta a prendila non so eh colui mi hai tirato oh no no mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia ho un colpo di testa ma ho passato di mezzo a tre sciurlo è vero o meno di qua cioè ha sciurito la porco ma perché mi devi far besti in me questa? ma che palle però mamma mia che palle oh occhio a questo che ti taglia non tanto non tanto non tanto non tanto non tanto non tanto se ne era andato ho capito ma è molto grosso eh ho capito sempre con lei a rosso diretto odio perché hai fatto quella cosa? magari si lo magna tanto il gol lo famoso rigore eh magari si magna rigore è la stessa cosa ho capito ma stanno sempre in dieci però col tuo i porco incrocia edin dai te prego tira tira subito mamma mamma mia mamma mia non ci posso credere raga non ci posso credere raga ah io sei una bala no mamma mia ho provato una smartire a qua ho detto no te lo magna non ti mori non ti mori non ti lo facevo non ti capisco no non ti capisco no non ti capisco cioè c'è c'è fiscato mentre stavo un attacco vabbè dai è una partita proprio scandalosa in mane cioè vabbè dai comunque vedo un beleno vabbè non fa niente dai Comunque è stata una gran partita Ci becchiamo subito domani per un altro episodio Daie Ciao Bella Stay sempre vecchi drama